Misterioso universo dei reali, pochi sono i momenti di intimità svelati. Tom Parker Bowles, il figlio della regina Camilla, ci offre un raro assaggio di quella vita riservata. In un'intervista entusiasmante, racconta la cerimonia quotidiana dell'ora del tè, ben più che un semplice rito. È un vero e proprio pasto, rivela, svelando un trionfo di tramezzini, dolci sfarzosi, sconese uova. Questo non è un semplice incontro, ma un'importante tradizione che stupisce. E cosa mangia attualmente un re? La sorpresa è che salta regolarmente il pranzo, dedicandosi a un lussuoso inizio di giornata con le sue amate uova al formaggio. Un perfetto equilibrio tra disciplina e piacere, rivelando il lato umano di una vita regale.